Tredicesima giornata in arrivo alla GSM Forum, il campionato fino ad oggi ha presentato per ogni avversario delle criticità diverse. In tal senso, Roseto, che squadra è? È una squadra che esula dall'ordinario, una squadra che gioca una palacanestro speciale rispetto alle abitudini di tantissimi altri avversari, perché è figlia di un progetto basato sui giovani e quindi di conseguenza gioca una palacanestro vicina a quelle che sono le caratteristiche dei propri giovani. Intendo dire, grande fisicità a livello difensivo, energia, atletismo, pressione a tutto campo, molto aggressivi anche nella metà campo, un atteggiamento offensivo che prima di ogni altra situazione cerca la corsa, dove poter esplodere nell'atletismo che risiede nei giocatori di Roseto. E quindi è una squadra che, per finire, aggredisce tantissimo la rimbalza in attacco. Sono tre punti non consueti, non rintracciabili, così insieme in altre squadre. Quindi queste caratteristiche che definiamo criticità portano Roseto ad essere una squadra che esce dall'ordinario. Hai parlato di atleticità, di fisicità. Roseto, ad eccezione dei due americani, è una squadra che non dà dei grandi punti di riferimento. Cosa deve fare la Tezenis per cercare di arginare queste trappole? Non dà punti di riferimento perché ha giocatori che possono ballare in doppie posizioni giocando insieme dentro al campo. Non dà riferimento perché hanno comunque un ritmo offensivo molto alto a livello di aggressività. È necessario innanzitutto avere una presenza, un'esecuzione, un'attenzione su ogni possesso offensivo per costruire la nostra partita, andare dove noi vogliamo e non esporci attraverso palle perse, attraverso tiri fuori equilibrio al contropiede di Roseto. È necessario dal punto di vista difensivo una grande attenzione per mantenere bene gli equilibri in difesa senza farci esporre quindi troppo nel loro essere atipico e una grande voglia, un desiderio di combattere nel controllo dei rimbalzi nostri difensivi. Questi punti per noi saranno determinanti e costruiranno di conseguenza, se riusciremo a centrarli, costruiremo la partita verso la nostra traiettoria, verso la nostra direzione.